Venerdì 18 agosto Marino fa mercato le band Aretine pro terremotati, appuntamento nel piazzale di Marino fa mercato a Castelnuovo di Subbiano, prima la cena e poi la musica live delle storiche band Aretine. Sicuramente sì, grazie alla umanità e alla generosità di Marino che ha offerto tutta la cena del 19 agosto, le band Aretine sono presenti in numero adeguato, non al completo ma il meglio delle band Aretine, per cui tutti gli Aretini e i subbianesi sono pregati di intervenire a questa serata che sarà preceduta da una cena tutto in favore dei terremotati. A questa cena presumibilmente il sindaco di Subbiano sicuramente è presente, ma può darsi che intervenga, è stato invitato con gran calore sia il sindaco di Arezzo che Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che se c'è chiaramente dovremo mettere le transende nella strada perché tanta gente arriverà a Subbiano. E' l'augurio che facciamo per cercare di intervenire non direttamente su Amatrice ma su quelli che hanno subito le maggior perdite. Addirittura Marino ha pensato di portare, già preceduto da altre persone, di portare dei carichi di fieno per gli animali che sono stati praticamente privati delle proprie stalle. Quindi un invito particolare, ormai gli Aretini hanno dimostrato tanta saggezza, tanta umanità e tanta solidarietà in tante circostanze. Per amore della musica e della solidarietà che è nato questo nostro gruppo in favore del calci da quattro anni con la Cermessi al teatro Tenda, questa volta si è dedicato, come del resto è stato fatto precedentemente, anche per altre umanitarie occasioni. E sta facendo anche questa circostanza. A presentare la serata, oltre a Carlo Benucci, l'assessore Tiziana Misini, che ritorna in questa veste con la quale l'abbiamo vista in modo molto positivo. Sì, ormai mi hanno adottato e io ci ho preso gusto. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre. Per cui ti ringrazio dell'invito, parteciperò volentieri anche perché, vuol dire, sarà nel comune di Ustubiano, ma anche Arezzo ha aiutato le zone terremotate sin dal primo giorno dell'evento calamitoso. Volevo ricordare le band che si esibiranno, si esibirà il quadro d'autore, gli Antenati, Dieci anni dopo, Cris e Saratoga e Coralli. È un personaggio a sorpresa. Ah, è un personaggio a sorpresa che non so che sia. È a sorpresa anche per noi. Intanto il 18 di agosto, precisando, ecco, per cui questa serata sarà veramente una serata favolosa. La musica è quella vera, è sempre tutta live. Anche gli errori, mi raccomando, sono doc, sono veramente, veramente eccezionali. No, veramente, sono dei musicisti in gamba e soprattutto sono persone sensibili, veramente. Quindi è vero, c'è Marino, ma ci sono i musicisti, c'è il comune di Subiano, c'è la gente di Arezzo, ci sono tutti veramente persone generose di questa terra. L'importante è creare questo spirito di amicizia, di solidarietà, d'amore per chi è più sfortunato di noi. E noi lo facciamo volendieri, perché ci piace la musica, è vero, ma ci piace anche sapere che qualcuno ne trae un beneficio. Magari noi regaliamo un applauso per quello che ci basta, per noi un applauso è sufficiente per chi soffre, per chi ha avuto veramente problemi di una tragedia enorme e invece ha bisogno di qualcosa di più sostanzioso. Noi daremo qualcosa, magari chi ha il potere, il dovere di intervenire lo faccia e lo faccia presto e bene.